Bene, eccoci di nuovo in studio, nell'intervallo qui ci siamo un po' documentati, diciamone una su tutte, che potremmo dire dei vari record, dicevo, maggior numero di vittorie in trasferta, maggior numero di gol segnati totali, maggior numero di gol segnati in trasferta, maggior numero di partite consecutive in gol, maggior numero di uomini in rete in campionato che hanno segnato tutti. 19. No, diciamo che quello che attualmente ci interessa più di tutti però, che sangirebbe a prescindere da 20 squadre, 18 squadre, 19 squadre, è la media punti, la media punti attualmente la migliore di tutti ce l'ha, l'Avellino, quando è stato promosso, che ha fatto 2,44, 2,44, prendiamo il caso due giorni, la Ternata attualmente ha una media punti di 2,51, è la più alta di tutta la storia dei campionati, per cui per mantenerla significa chiudere a 90 punti, fate un po' voi, che stai a fare? C'è anche il Bologna, c'è anche il Bologna, dicevo. C'è il Bologna che ha fatto parecchi punti a 18 squadre, ha fatto 81 punti, quindi è 2,38, insomma, quello sarebbe veramente un record quasi imbattibile. L'unico modo per paragonare i campionati a 18, 19, 20 squadre è vedere la media punti, la media punti attualmente è da battere 2,44, il record è dell'Avellino, segue il Bologna nel 94-95, a 2,38, noi attualmente siamo a 2,51, vediamo. Ma poi Enrico, al di là dei numeri, la cosa che è veramente spettacolare di questa squadra è che la Ternana stravince un campionato giocando a calcio, cioè a differenza di altri campionati vinti negli anni scorsi in cui in Serie C specialmente, l'abbiamo detto tante volte, noi eravamo scettici, ricordi, all'inizio dell'anno, io per primo dicevo giocare con un modulo così offensivo con 4-2-3-1 in Serie C, spesso paga il golletto, noi ci abbiamo vinto un campionato con Claulunaco, pochissimi gol subiti, 13 mi pare, invece la Ternana è una squadra di una modernità di gioco veramente notevole perché in un campionato così duro, così difficile come la Serie C ti mette in campo una squadra con sostanzialmente cinque giocatori d'attacco perché i tre trequartisti, il terminale offensivo è uno dei due centrocampisti che si inserisce sempre, senza considerare i due terzini bassi che spingono come male, quindi di fatto giochiamo con due difensori centrali e un mediano, diciamo così, neanche così mediano, quindi di fatto noi giochiamo con la differenza però che rispetto a quello, a parte che segnavamo molto di più, ma con una partecipazione alla fase difensiva corale in cui i due esterni entrano sempre dentro il campo, formiamo una linea 4, ma comunque ho delle idee di gioco, ho delle soluzioni da squadra di altissimo livello, sai che stavo pensando a proposito? Scusa, poi finisco, è questa veramente la nota, la novità, la grande novità che porta la Ternana in questo anno di Serie C, cioè la Ternana propone un calcio offensivo. Di solito in Serie C l'abbiamo detto anche tutto l'anno scorso, scarpare, paga tutto un altro tipo di calcio. Sai che stavo pensando? Che forse un pochino per quanto riguarda i punti… Ha riscritto un po' proprio le regole di questo campionato. Quest'anno sì. Dicevo, per quanto riguarda i punti, per esempio, o alcune partite che abbiamo vinto dalla sferta, è vero che ci potrebbe aver favorito un pochino il fattore campo che non c'era, questo ci può stare che su alcuni campi, come lo dicevi prima tu, c'è anche da dire però, io sono convinto che in alcune partite, soprattutto le ultime, tipo Teramo, noi se ci fosse stato il pubblico saremmo usciti a fare gli applausi. Ah, sicuro, certamente. Secondo me in alcuni campi, non in tutti, però in alcuni campi saremmo usciti a fare gli applausi. Ma sentite? E sarebbe stata una bella soddisfazione. Ci stavamo diventando, ma che vogliamo fare il Magellino? Facciamo, beh, certo. Tipo Cristiano Ronaldo quando segnò a Torino il gol, insomma, no? Se vi ricordate, c'è stata. La differenza grossoletto è questa, tu vedi una squadra che ha detto alla Serie C, guardate che si può giocare a calcio anche in un modo diverso da quello che avete visto. Cioè, invece, calci e pallonate in avanti. Tra l'altro, apro la Parenzi, gioco che io avrei fatto in Serie C perché il 90% dei campionati sono finiti così. E poi un grande preparatore atletico, lasciamelo dire, perché Bartali ha fatto un lavoro eccezionale. Questi ancora corrono. Ieri a Bisceglie penso saranno stati 20 gradi abbondanti. Insomma, ancora i ragazzi corrono tantissimo. Cioè, una flessione sotto Natale di un paio di partite tra Turris e Monopoli. Lo dicevamo, infatti era quello. E poi sempre a livelli ottimali. Cioè, è veramente difficile. Io che ho un po' di esperienza ti posso dire che tenere quel picco di prestazione, prestazionale, nell'arco di 8-9 mesi... Tutto il campionato, Gianni, non abbiamo mai visto un'atletico. Oggi siamo un po' sulle gambe, soffriamo un po'. Ci può stare nel campionato di due o tre partite. Come dici tu, Turris e Monopoli, meno brillanti, ma non è che siamo stati in difficoltà. Sì, no, infatti. Meno brillanti. Poi, insomma, se vi ricordate, nel finale dei partiti abbiamo sempre cercato di ricoperare le partite. Anche con il Francavilla, una ur, ultimi minuti, abbiamo messo dentro l'arco. Ce lo ricordo a me. Quella che abbiamo perso col Catanzaro, non è che l'abbiamo persa per le partite. Quella l'abbiamo persa perché siamo scesi in campo meno concentrati. Io ribadisco che... Bartali era al Galatasarai, non è che le stava... Due gol su due calci piazzati, era una partita giornataccia, capitata. Va bene, Pagcellini. Gianna Rilli... Sei e mezzo io, perché quando stavo via... Io sei perché su quel tiro è il primo tempo che le spingono i piedi, è lì... Sì, però dopo in generale, no? Sì, va bene, sei, dai. Defendi sette per il sette, perché... Goll... Ha solo l'azione del gol e fare il voto. Maicon, lì... Crossava Maicon in quella maniera. Soprattutto scendeva Maicon così. Scendeva. Su Ager, otto. Vabbè, otto. Otto, perché oltre al gol che fa... Sette e mezzo, sì, bravo. Uno lo salva e poi... Ah, sì, vabbè, sette e mezzo, via. Oggettivamente... La regione, perché salva anche quello. Si sta rivelando l'uomo in più in questo finale di campionato. Sì. Ma lo sapevamo, lo sapevamo, però... Intanto, invece, a Conte, che gli do... Sei. Meno meno. Sei meno meno, bravo. Meno meno, non voglio dare insufficienze, però meno meno... No, però qui se ci stavano insufficienze la salva piava. È perché l'errore è grave. Eh. Ma, voglio dire, questo... È grave. Per un difensore, sì. Come fai non segnalarlo? Celli, un bel sette. Celli, che anche lui ha fatto due interventi clamorosi in copertura. Ha fatto due interventi ottimi in copertura. Ha salvato due collo, secondo me. Non proprio il tiro, ma proprio l'azione. Ha fermato, ha fatto due diagonali in partita. Insomma, si è visto che già sta... Sta bene. Mi sembra pienamente recuperato. Allora, Russo e Laverone senza voto. Senza voto. Proietti sei e mezzo. Mattia Proietti sei e mezzo. Sei e mezzo, perché stavolta è andato meglio delle ultime volte. Sei e mezzo. Ma lui, come ripiglia un po' di forma, ritorna a essere uno dei più importanti di questo. Il provatore fondamentale. Paghera sette. Anche sette e mezzo. Anche sette e mezzo. Ha giocato bene, però ha fatto anche il gol. Sette e mezzo. Tra i migliori in campo, sì. E ci rinuniamo agli auguri alla mamma. Non sappiamo qualcosa, però forza mamma di Paghera. Tra l'altro il gol bellissimo, perché prende il tempo perfetto. Non ne apriamo oltre come se lo scrive, eh? Forza mamma. Ragazzi, fortunatemi. L'ho visto ieri e mi aggiungo. Damian. Ma Damian è entrato, lo fa tutto su. Sì, il voto ci sta. Ha giocato. Una ventina di minuti. Ha giocato un po' ci ha giocato. Venti più recupero. Mi pare, sì. Sì. Salsano più o meno uguale. Sì, sei più. Volevo dire invece a proposito di Salsano, volevo sottolineare la bella prestazione che ha fatto nell'infrasettimanale a Potenza. Perché a Potenza, Salsano, noi, insomma, io notoriamente non l'ho mai, come posso dire, idolatrato, diciamo così. Però a Potenza ha fatto una gran partita. Devo dire. E però confermo quello che dico io. Perché a Potenza la partita si era messa in una certa maniera. Quando la partita si mette bene, lui sa giocare a calcio. Allora, Gigi, parliamo chiaro. Le migliori prestazioni quest'anno le ha fatte da terzino. Questa cosa, secondo me... Ah, Potenza. No, Potenza ha giocato al centrocampo, però... Lascia perdere Potenza. Da analizzare questa cosa. No, però dicevo, col Potenza, l'ho visto giocare. Perché lui è bello a vedersi, sa giocare a calcio, verticalizza molto bene. Quando c'è da battagliare, un po' sparisce. Questo l'abbiamo detto più di una volta. È quello. Invece a Potenza ha fatto una gran partita. Sì, sono d'accordo con te. Però per dare i voti ci siamo persi. Siamo a Salsano. Siamo arrivati a Salsano. Ecco. Vabbè. Diciamo che Falletti a Potenza quando meritava. No, è entrato, sembrava... Ha giocato una gran partita anche lì. Giocava un'altra partita. Anche lì ha giocato. Falletti, eravamo rimasti a Falletti comunque. Tipo da piccoli, non so se vi ricordate. Per le pagellini. Veniva a giocare con tutti quanti uno che magari giocava con la Ternana. Sì. E si vedeva proprio che era un'altra partita. Sì, è vero. Allora, Falletti sei e mezzo. Falletti sei e mezzo, barra sette. Ah, sei e mezzo perché quella posizione... Non è fatta una gran partita. Ma non è colpa sua. Se fa quel gol nel primo tempo di sinistro... Stavolta non l'ha fatta una gran partita. Ma sei e mezzo. No, beh dai, entra su tutte le occasioni. Il Potenza è stato spavendoso. No, il Potenza è stato spavendoso. Peralta sei e mezzo. Sei e mezzo perché ha dato dei guizzi, dei strappi belli. Però dopo certo si perde con qualche lezio si tratta di troppo. Io per quello io a mezzo. Però per me la partita è positiva. Adesso non scherziamo. Com'è positiva quella di Furlan. Sei più anche a lui. Sei e mezzo, sei più. Stiamo lì. Torromino... Direi non giudicabile. Per cortesia. Vabbè, va. Perché non voglio giudicare. Non voglio giudicare. Senza voto. Senza voto. Rachevic... Sei e mezzo solo meno. Rachevic è croce e delizio. Sei e mezzo perché sta pure simpatico, per carità. Però mamma mia. È anche sfortunato. Perché tante volte la palla entra anche su tirini, un po' così, sporti. Guarda, non stai a dire una gran cosa. È peggio ancora. Sei pure sfortunato. No, secondo me. È finita. No, perché tante volte il centro avanti la palla entra anche con tirini, un po' così. No, invece lui, una volta per un momento, una volta per un momento la palla non è. Delizia. Lucarelli, sette e mezzo. Sette e mezzo. Alè. Posso dire questo tra Rachevic? Allora, hai detto bene, croce e delizia. Delizia. La palla che Falletti, ieri, gli mette proprio di poco al lato, fa un 2 con Rachevic. Delizia. Croce quel tiro di Rachevic al secondo tempo, che la spara praticamente quasi. Un bagnino che stava lì, che stava a piantare un brilone. Tu parlavi dell'errore di Conte con Bari. Ma perché quello di Rachevic con Franca Villa? Lì l'abbiamo dato addosso, però io dico che ancora è prestissimo. È prestissimo, perché poi ragioneremo anche della Ternana, del futuro. Tu vuoi parlare di un centro avanti che ti serve? Non so io. No, io dico che secondo me abbiamo sbagliato a non prendere Avenatti. Perché adesso ci avresti già l'attaccante pronto per il prossimo campionato, che sarà di Serie B, senza ci stiamo a prendere in giro. Ci sta sempre tempo comunque, no, Enrico? E dei nostri tre centravanti, io faccio fatica a dire chi tengo tra tutti e tre. No, li puoi tenere però, se c'è per titolare. Fammi una premessa doverosa. Li possiamo tenere tutte e tre. Per quello che hanno dato in campo tutti quelli di questa stagione andrebbero confermati in blocco. Poi è evidente che la categoria è un'altra. No, ma poi non c'è stato il discorso degli over, capito? C'è il discorso degli over, quindi ci saranno delle modifiche. Io dico che avere quello lì già in squadra, già rotato, già allenato da Lucarelli, già dentro i meccanismi, sarebbe stato un aver programmato molto bene in largo anticipo. Tanto più che Ferrante, l'abbiamo visto, è rientrato. Siamo felici per lui, ma non è che ha dato questo contributo. La parte sua la fa, però... Ma insomma... Poi il discorso da Venati, poi lo chiudiamo qua. A parte si fa ancora in tempo. Siccome Lucarelli ha trasformato gente che lo scorso anno sembrava destinata a smettere col calcio, perché ci sono stati dei giocatori che l'anno scorso, ce lo ricordiamo, che tipo di prestazione hanno sfornato. E lui invece li ha completamente trasformati. E io sono convinto che uno come Venati, su cui c'è materiale per lavorare, perché il ragazzo è a voglia se ci puoi lavorare, ha una tecnica sovraffina, ma poi segna. Cioè voi, ve lo ricordate, in Serie B a Venati ha fatto una caderva dei colli... No, ma sfugge una cosa a Terni, secondo me. Quindi, lavorando sulla testa del ragazzo, in Serie B è un ottimo attaccante. In Serie C qualcuno ha detto qualsiasi. In Serie C vedete i falletti, cioè... Ma certo. Fanno la differenza. Quindi per questo uno lo dice, poi non è servito meglio, no? Per carità. Meglio, meglio. Però ripeto, a livello di programmazione sarebbe stata un'operazione eccellente. Facciamo un nome. E' secondo col Belgio in Serie A. Secondo me Luca è un attaccante, in Serie B. Non solo, ma c'ha 27? No, è del 92. 93, mi sa? No, 93. 92 falletti, sì. Mi pare il 93. C'ha 28 anni. C'ha 27, ne deve fare 28. Perfetto. Comunque sì, dicevo... Nella piena maturità dell'attaccante, cioè, secondo me era un'operazione... Insomma, ha segnato anche in Europa League. Comunque, al di là di a Venati, questo Luca del Palermo, secondo me, quello è uno. Ecco, no, questa è una domanda che vi volevo fare. Quello è bravo. Proprio per non parlare di mercato dei nostri, io volevo invece dire, la domanda era, chi vi ha stupito di questo campionato? Perché io mi ricordo l'anno della promozione con Toscano, noi avevamo segnato due giocatori, Laurini e Zazza. E Zazza, erano i due, a noi ci hanno impressionato. Guarda caso, hai visto che carriera hanno fatto, questo è perché siamo capiscioni scienziati, no? Vabbè. Come attaccanti parli? No, io parlo proprio di giocatori. Io ti dico, lui ha detto, Luca, io sottoscrivo, ci aggiungo Rasi, che non mi ricordo che il gioco. Sì, però con noi ha fatto una partita. È proprio il buonese. Noi queste altre, che non è andato male. E aggiungo Maldonato del Catania. Ma ci sono giocatori che mi sono piaciuto. Però Maldonato forse già c'era. Però di questa categoria, chiaro. Anche quello del Teramo, Santoro, non è un buon centrocampista. Santoro mi piace moltissimo. Lo sarà il cognome. Di Aghi-Tè però forse non è veloceissimo. Beh, però, ti posso dire i giocatori che mi sono piaciuto. Allora, in attacco sicuramente Luca, Pandolfi che secondo me è un giocatore. Però ha visto che è andato a Brescia non ha giocato mai. Sì, vabbè, si è infortunato però. Si è fatto un minisco. Però secondo me Luca è un'altra cosa. Ma anche Pandolfi secondo me è forte. Luca è impressionante. Ce ne stanno tanti dei giocatori interessanti. Hai visto il golle che ci ha fatto, no? Sì, sì. Poi il giocatore diventa... Quello ricorda molto Luca Tonio. Insomma, non è che scoprono niente perché gli somiglia veramente. È quel tipico centravanti che allarga le braccia e anticiparlo è difficile. Spostarlo è difficile. In più questi centravanti spesso, e qualcuno lo conosciamo, non sono proprio bravi tecnicamente. Invece lui è anche bravo tecnicamente. Poi c'è anche un gran tiro. Basta riguardarsi il golle che ha fatto sul proiezione del Bari. Fra un po' butta giù la porta. Da svingolato, preso da svingolato. Preso da svingolato perché era il giovanì del Torino e adesso è del Palermo. Magari il Palermo non te lo dà. O magari lo dà una squadra più importante. Però io ci proverei. Eh, quello è un bello. Penso che Lucarelli gli attaccanti ci capisce. È un bell'investimento. Lì penso che ti devi svenare però per prenderlo. Ma non lo so. Per l'età che c'hai, le caratteristiche soprattutto perché... Luca è due metri, eh? Due metri, due metri. Due metri. Tu dicevo, ricorda un po' anche a Venetti. Però a differenza da Venetti, Luca, è più attaccante, secondo me, più finalizzatore. Meno tecnica individuale. È più giovane, quindi poi dopo le potenzialità sono da vedere. Beh, Luca penso che sta su almeno un paio di milioni. Ma molto di più. Secondo me costa molto di più. Ti consiglio al Covid. Sare C, eh? Adesso il mercato non è così ricco come una volta. Adesso ci mettiamo d'accordo durante la pausa, che io vado in pubblicità. Sare C, eh? Sare C, eh? RISONANZA MAGNETICA Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Dal nord Europa, i nuovi sistemi di riscaldamento Buderus per impianti condominiali e abitazioni private. Le nuove caldaie a condensazione e le pompe di calore per riscaldare la vostra casa in modo confortevole, economico ed ecologico. Con tre secoli di esperienza nell'innovazione del riscaldamento, Buderus è la scelta professionale per interventi di riqualificazione energetica, oggi anche con eco bonus del 65% e super bonus del 110%. Buderus, i professionisti del riscaldamento del gruppo Bosch, a Terni e Pronto Calor di Brunotti Roberto, in strada di Marattabassa 55. Buderus, i professionisti del riscaldamento del gruppo Bosch, a Terni e Pronto Calor di Brunotti, a Terni e Pronto Calor di Brunotti, a Terni e Pronto Calor di Brunotti, a Terni e Pronto Calor. Stia DSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti sopra luoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403 Bene, eccoci in studio per l'ultimo quarto di trasmissione. Allora, prima di addentrarci in altri discorsi, io voglio dire una cosa. Ma Santo Padre, non era quello che diceva che i campionati si vengono in campo? Va bene. Non era quello lì? Mi ricordo male? No, no, ti ricordo bene. Mi ricordo bene. Ma che è sta storia che auspica il fallimento della San Benedetti? C'è quindi gente senza stipendio a casa? Secondo te io non mi piace di commentare. Santo Padre! Tanto comunque non vince il campionato. Fate i playoff e perdete col bario o con l'avellino. Perché siccome il nostro è un giro non è scarso, vedrai quanto è scarso. Gufata imperiale da terra e ragazzi. Campanilismo è il sale della vita. Gianni! Guarda, ti chiami pure Gianni. Che vuoi? No, mi sono imparato a leggere i commenti sulla pagina di YouTube di Ondifilm. Me li voglio proprio vedere dopo questa tua. Ma capisci? Mi sono imparato da poco. Vedi, io ho imparato. Mando i bacioni a tutti. Ah, saluto sempre Antonio. Che qualcuno mandiamo e segna le cose. Quanto stava, Andò? Penso un po' che l'avellino... 22. Meno 22, Andò? Cioè il Bari... Mango in Alaska! Sai qual è il paradosso? Il Bari ti ferà Ternana sabato. Capito, Enrico? Il Bari ti ferà Ternana sabato. Perché spera che la Ternana abbatta l'avellino. Quindi è arrivato al punto il Bari, a fine campionato. Andò ti tocca di fare Ternana. Eh, ti tocca di fare Ternana, Andò. Vabbè, ma non male. Antonio. E allora a noi che a Forza di Off ci tocca di fare Bari? Ah, no, ragazzi. E' il tuo, ragazzi. Quest'anno per il contrappasso. L'anno scorso ti fammo reggiana. Quest'anno ti faremo Bari se incontra un'altra squadra bianco-rossa. A meno 22, se conserva anche il Pfizer. Volevo dire questa cosa. Andò, facci un pensiero. Perché desti tempi non si è buttato da niente. Basta, basta con il faccio. Si scherza, eh. Questo è un classico sfottò calcistico. Anche perché io ho letto qualche social proprio di tifosi del Bari. Che riconoscono, devo dire. Riconoscono la vittoria dell'Aternano. Però dicono, vabbè, però insomma, non è che tutte queste sultanze. Ragazzi, è un campionato talmente stravinto e stradominato. Fateci perlomeno esaltare questa squadra. Ma vedi due punti. No, ma anche perché, scusa, questa cosa è fatti. Ecco, avessimo vinto per tre, quattro punti. Stavo pensando stanotte verso un'ora tarda, non vi dico quale. Ecco, stavo pensando... Come mai stavi svegliato? Stavo, stavo... Addentriamoci in questo... Stavo pensando... Ma quando c'è... Cioè, vuoi dire, ma un campionato... Quando te ricapita, infatti... È chiaro che esulti, no? E poi, e ne stavo pensando sempre perché sono svegliato... Ma quando siamo retrocessi? Quindi... Quando siamo retrocessi quell'anno, no? E soprattutto dopo il primo anno... Ma voi avreste pensato di vincere dopo un anno o due il campionato in questa maniera? Ma no, ma no. Quindi è chiaro che esultiamo, no? Non ti ricordi quando siamo... Viste le premesse? No. Cigi, ma ti ricordi quando siamo retrocessi, quella puntata che dicevamo... Ci vogliono anni, no? Guarda, Bandecchi che sarà... Perché io la notte faccio steri fissi che sto qui sveglio. È stato miracoloso questo ritornare su. E' chiaro che le sveglie le notte, allora dormi del giorno. Le sultanze si stanno. Ecco, perché poi dopo... Sto ringuglio lì, diciamo. No, dopo il rendimento... Smart working, eh? È un macello, ragazzi. Purtroppo questo passa al convento a... Non mi ricordo più, volevo dire... È una sciocchezza. No, volevo dire grossa, però... No, dicevo che poi... Che poi, vedi la differenza, no? L'anno che noi siamo retrocessi, noi l'abbiamo detto agosto, guardate che quest'anno retrocediamo da ultimi. A passo di fanvara. A passo di fanvara da ultimi. E puntualmente, nonostante gli insulti, le cose. E quest'anno di... Quest'anno invece... Pensavamo di giocarci la colbari, diciamo. Sì, sì, perché abbiamo sempre detto che facciamo la corsa testa a testa col Bari. Poi a un certo punto... A un certo punto, se la so attirata... Loro, perché hanno cominciato a dire tutto di più... Sia i giocatori, sia l'allenatore vecchio... Poi diciamo che il mercato... Sia tutti quelli che girano intorno... Ma poi è arrivata la Cassazione... Per me è la Cassazione... Quando quell'allenatore famoso che ha guidato anche l'Italia... Non qualificandola ai mondiali... Sto dettaglio, però ha guidato l'Italia... Ha detto adesso sicuramente... Ora hanno un calo... E ho detto è fatta... Lì ho detto è fatta... Perché questo dice una cosa... Succede esattamente l'opposto... E puntualmente... Chi ci ha avuto il calo? Bari. Bari. Adesso ha detto che vede bene Gattuso... E' favorito per il posto Champions... Gattuso, grattati... Forte però... Tutti i gesti apotropaici che puoi... Chi più ne ha più ne metta... Senti... Io il risultato di quell'altro... Non rileco... Me la può fregare meno... Una cosa... Ci abbiamo qualche minuto... Sì io prendo spunto da una cosa che hai detto tu... L'anno scorso abbiamo detto... Guardate questa è una squadra forte... Forse ce la giochiamo col Bari... Non pensavamo a un cambiamento... No questo sì... Però io posso dire... Basta guardare la registrazione... Se la Ternana quest'estate... Lavorerà bene sul mercato... Facendo i giusti messi... Questo è un gruppo... Che può fare benissimo in serie B... Anche rispetto... Fermo... Fammi fare la domanda... Fammi fare il bravo... Inizialmente... Il bravo presentatore... Senza fare nomi... Detto che... La Supercoppa si gioca invece... Si gioca... E poi magari ne parliamo alla fine... No la domanda è questa... Ma questa squadra... Che ha dominato in questa maniera... Schiacciando il camionato di serie C... In serie B... Ma con questa squadra... Che me la classifica già... Secondo me... Con questa... Ma... Tanto non me l'ha fatta finire... Eh... Fa il finish... Allora finire... Ormai la roba è capita... Come Mike... Ho visto quando... T'ho interrotto... Quando la domanda era questa... Bravo... Bravo... No... Adesso a parte i scherzi... Vediamo i cugini del Perugia... Che inopinatamente le trocelle... Secondo me l'anno scorso... Non era una squadra per le trocelle... Ma era un camionato veramente... Basta che guardate le squadre... Che sono andate in serie ultimamente... Cioè un camionato... Rispetto alla serie B... Di qualche anno fa... Poi per carità... Magari st'altro anno... Troveremo delle corazzate... Però gli ultimi camionati... Cioè quest'anno... L'Emboli domina... Monza che era stato costruito... Insomma... È un camionato normale... Secondo me questa Ternana... Non lo vince... Ma... Se la gioca tranquillamente per tutte... La vuoi la cartina di Tornasone? Questa è una Ternana... Puntellata qua e là... E vabbè... Poi vi bisogna dire puntelle... Enrico... La Salernitana... È al vertice quasi... Della serie B... È terza... Mi pare in classifica... Lo sai chi è uno dei due attaccanti... Di titolare della Salernitana? Gondo... Allora... Oh mio Dio... Se Gondo gioca a titolare... Cedric... Se Cedric... Buon attaccante per la serie B... Ma va bene Gigi... Ma se Gondo... Ma gioca a Corrieti... Ecco... No... Titolare con Tutino... Allora... Ti dico che... La serie B rispetto a... Qualche anno fa questo... La differenza è... Ti fanno giocare un po' di più... Cioè... È meno... Come dire... Impattante... Magari ti puniscono in più di... Però... Esatto... Ci sono comunque... Delle squadre che giocano più a calcio... Per cui... Devi... Secondo me devi aumentare anche un po' di fisicità... Perché quando facemmo... L'amichevole contro la Salernitana... Quest'estate... Perdemmo 3-1... Eravamo là con Alessio... Mi ricordo... Non eravamo completi... No... Però mi ricordo benissimo... Che loro avevano un centrocampo... Tutti un metro e novanta... Ci stava di tacchio... Cioè... In serie B è importante... Però non eravamo completi... Quando abbiamo giocato la Salernitana... Se ti ricordi... La prima con la VB... La Ternana 0-0... Era una squadra ancora... Però la serie B... Se tu vai a vedere... Ci stanno... Dentro un contesto... Di vecchi marpioni... No... Di ancora... Secondo me la differenza... È che ci stanno... Ogni squadra... C'ha 2-3 giocatori... Che ti fanno la giocata... Cosa che 0-5... Si sta... Esatto... Però non è un livello... Come dici tu... Anch'io sono convinto... Che... La Ternana... Già adesso sarebbe... La media classifica... Ma se fa gli innesti giusti... E quindi... Io direi... 5-6... Sappiero... S'è inutile che ci mangiamo la parola... Ci vuole un mediano... Strutturato... Fisicamente una bestia... I due esterni... Sembra a Dai... Come riferimento fisico a Dai... Però in serie C a Dai fa la differenza... 0-B già... Io dico... Riferimento fisico... Sennò ti dico... Te sai... Però mi pare troppo... Di tacchio... Di tacchio della Sernitana... Ti può Dai... Va bene... E... Secondo me... Sugli esterni... In difesa... Surtro a tutti... Qualche cosa bisognerà fare... Senti... Il portiere che facciamo... Come dici tu... Una volta uno... Una volta un'altro... Oppure... No no... Io dico... Il portiere è un ruolo molto delicato... Perché qualcuno dice... Che gli annari... Chi gioca in porta... No perché qualcuno... La prima cosa... La prima cosa... La prima cosa che deve... Fare... E sapere che gioca titolare... Esatto... Non solo... Trasmettere sicurezza... Al reparto... E gli annari... Questo lo fa... Questo lo fa... Per cui... Per me va bene... Quando noi andammo in B... Con Toscano... Confermammo Ambrosi... Che non era... No... Una sala cinesca... Però era uno dei personali... Sì assolutamente... Uno spogliatoio... Che stavano tutti a sentire... Da capitano... E dava... Garanzie... Dopo c'è fu... Il discorso Brignoli... Non era un fenomeno... Però dava garanzie... Non era neanche un'acqua santiera... Insomma no... Che ognuno... Entrava e segnava... Ma gli fu messo accanto Brignoli... Che era in porta scesa... E dopo si è preso la titolarità... Dimostrandosi un grande portiere... A prescindere dall'antipatia... O simpatia... Che uno possa avere per la persona... Ma il giocatore... A Terni ha fatto grandi cose... Sì sì no... Poi dopo la confermata in carriera... Via... Quindi... Iannarilli... Sicuramente... Ripeto... Io confermerei quasi tutti... Poi... Ci sono... La merita una scienza in Serie B... Ci sono dei numeri... No? Ci sono i numeri... E se no quella possibilità... Invece che una volta gioco l'uno... Una volta l'altro... Quella è una cazzata... Che tu scusate... Comunque la... La dà tua animo... Ma è anche un po' rotto... Te lo dico... La B ci stanno... Tanti giocatori che noi conosciamo... Pensavo... Penso... Penso... Penso all'ultimo... Ci salviamo noi... Quando ci salviamo con Liberani... In Serie B... Ci salviamo con Pettinari... Che sta ancora in Serie B... E... A Resti giocava... Sì dopo... Pensa un po'... Un altro attaccante... Che sta ancora in Serie B... Ma non mi viene il nome... Però insomma... Però c'era anche Palombi... Pedriccione che sta in Serie B... C'era... Beh in Lecce ce n'ha parecchi di questi... C'era Palombi... Pettinari sta in Serie B... Però secondo me Gianni ci serve un altro centravanti... Cioè ci serve un centravanti... I due esterni bassi... Perché defendi... Non mi ha anche due... Un centrocampista strutturato... Abbiamo detto non parlare di mercato... No no no... Non ho fatto nomi... No... Il senso fare nomi... Difensori centrali direi... Un quarto difensore centrale... Cioè io mi terrei... Bobben... Conte... Che su Hager... E prenderei un quarto difensore centrale... Beh perché ti agite... Mi sa che anche per lì mi terzo... Cioè il problema della Serie B... È che c'è un tetto... Sì c'è 18 over più... Per cui non tutti... Già lo sai che non tutti possono essere riconfermati... Per cui... Vedremo a chi tocca... L'importante è che sia confermato l'allenatore... Ecco no... Questo ci teniamo a dire... L'allenatore è confermatissimo... Ci mancherebbe... Ma ti immagini... No perché qualcuno... Che ti fanno anche giocare un po' di più... No ma chi è che dice che non sarà confermato... Non lo capito... Ma non è che io non credo che abbia problemi... L'Aternano a volerlo confermare... Non so se lui riceve qualche chiamata... Superiore... Ma lì non lo sappiamo... Beh ma se tu fossi... La Roma è dalla tua Roma... Cerca l'allenatore perché dice... Guarda... Per quello che c'è ma attualmente ci potrei andare anche io... Però lo prende Bortogallo dice l'allenatore... Quindi così... Perché vi hai tutti allenatori stranieri... È perché il direttore sportivo è il gioco... Perché purtroppo... Non c'è uno che sappia di calcio in quella società... Però tu se fossi... Da quando se ne è andato Sabatini... Allora io... Anzi... Io se fossi Lucarelli... Farei questo aggiornamento... L'altro anno con la Ternana e poi si vede... Eh... Dai così... Vado in Serie B con la Ternana... Lucarelli mi pare ha fatto una stagione in Serie B... Però adesso non mi ricordo in quale squadra... Con il Livorno mi sa... Però senza tante partite... E non è andato bene... Allora lui potrebbe dire... Io ho costruito un grande gruppo... Mi faccio la Serie B con la Ternana... Vediamo che succede... E vediamo che succede... Non penso che magari... Che ti posso dire... Se retrocede il Parma... Dove c'è anche tra l'altro il fratello... Lui potrebbe... Cioè... Avrebbe senso per lui accettare... Di andare ad allenare una squadra... Che scende dalla A... Per risalire subito... Secondo me... Sarebbe meglio a Terni... Lui potrebbe essere tentato... Ma questo non lo so... Magari ti chiamo una squadra di Serie A... In metà classifica... Beh però... Magari ci pensi... Cioè che ti posso dire... Ti chiama il Genova... Ti chiama la Sampdoria... Ci pensi... Però secondo me è un po' presto... Però è presto... Comunque... Considerate sempre la variabile... Covid... Che in questo caso non c'entra niente... Ma per dire che le società che adesso pagano puntuali... E che sono solide... Sono poche... Quindi andare via da Terni... Però tu ci penseresti... Se ti chiamasse... Fossi... Beh assolutamente sì... Ti chiamasse la Sampdoria... Che fai? Assolutamente sì... Però ti dico una cosa... Da quello che so... Da quello che mi hanno detto... Ma non me l'ha detto Leone... In sede... Le telefonate in sede... Insomma... In modo di dire... Non è proprio in sede... Però le telefonate... I giocatori che vogliono venire a Terni... Dice che il telefono... Bisogna mettere avviso di chiamata... Eh certo... Perché si... Succedono... I procuratori... Quindi poi adesso l'allenatore... Come dici tu... Se ti chiamano la Sampdoria... O il Genova per carità... Ma non penso che sarà il caso... Ma non è solo l'allenatore... Ma sono i giocatori che vogliono venire... Perché... Ripeto... Al di là del fatto che la Terni è solita in generale... Ma in questo momento... Le società solite... Non so tante... Non mi fate fare nomi perché... Però la Ternana è una società che tutti sanno... Che ti paga quel giorno... E anche in anticipo... E penso che so poche... Poi so pochissime... E è in ascesa... C'è un allenatore che ha dimostrato di giocare bene... Quindi da quello che so... Dovrà la Ternana scegliere in un mazzo di giocatori... Che non sono quelli che tu vai a cercare... Ma sono quelli che ti stanno cercando... È tantissimo questo... È tantissimo... E l'allenatore penso che... L'importante è che fanno scegliere l'allenatore... Perché se vi ricordate è stato un periodo che a Terni non tutti ci venivano volendieri... Ma non un discorso economico... Ma perché l'ambiente sembrava un po' scollato... Vi ricordate qualcuno anche... Uno era Curiale che ci ha fatto anche i gol... Che non venne... Poi qualche altro giocatore... Comunque quando le cose vanno bene le vedi anche dalla struttura societaria... È capito... Noi retrocediamo in B ed in C per tutte le sciocchezze fatte in quell'anno... Coppoghesi, direttore sportivo... Non si capiva niente... Quest'anno che c'è un organigramma definito... Presidente, vicepresidente, direttore sportivo... Ruoli ben definiti... Staff tecnico, allenatore... Ruoli definiti... Parla di calcio o chi sa di calcio? Chi non sa di calcio o non parla di calcio? Beh magari questo non sempre succede... Però la Ternana sì... E allora tornano i conti dopo la Ternana sì... No perché sento quella di calcio gente che potete... No ma non l'avevo tu... No perché io per esempio come posso dire... Se parlo con Geometri dico scusa com'è qui? Invece di calcio vogliono parlare tutti... Però va dato atto per esempio... E lo riconosco io a Bandecchi... Che lui quest'anno non ha parlato di calcio... Non c'è niente da dire su quest'anno... E quindi ha fatto esattamente quello che deve fare... Cioè il presidente che... Non solo mette i soldi... Naturalmente dice la sua sull'organigramma... Ma sempre in banchina... Per carità è presentissimo... Però non evita... Tutto quella che è la parte tecnica... Che giustamente non ti compete... È normale... Va bene... Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione... Notate bene che... Abbiamo evitato di parlare di festeggiamenti vari... Perché è un argomento spinoso che non vogliamo trattare... Ognuno ha una sua coscienza... Io la bandiera l'ho messa fuori... Tanto per dire... Questa iniziativa la possiamo anche dire... Beh di colorare il balcone... Assolutamente... Ci mancherebbe... È bellissimo... Poi dopo lo rifacciamo con il cantammaggio... Invece con i fiori... Va bene... Detto questo... Grazie Gigi Manini... Grazie Gianni Giardinieri... Grazie a voi che ci seguite sempre numerosi... Vi ricordo... Andiamo in onda anche il martedì sera... Alle 21 su Rete Sole... Canale 13 digitale del resto... Se no già da ora di pranzo... Il martedì ci trovate... Sul nostro canale YouTube di On TV... Grazie... E speriamo che la prossima puntata... Ci vediamo già in Zeri B... Ciao!